Le avventure dell'amico Alessio Oggi l'amico Alessio si sveglia alle ore 14, si rotola nel letto, si ima almeno un po' il cazzo e decide di fare colazione. Dopo essersi saziato, rimembra sulle vicissitudini notturne e recandosi sulla sua autovettura, si accorge che i lampeggiatore di colore arancio fanno festa. Bip bip bip, biribiri bip, bip. Poca miseria, cosa capita alla mia autovettua? Dopo un'attenta analisi, decide di recarsi presso il centro assistenza BMW, dove gli assistenti alla meccanica lo conoscono ormai da tempo. Brem, brebrem, brebrem. No, è tornato quel testa tonda che non scrivi i tombini. Chissà con quale avventura ci presserà oggi. Salve, sono Alessio, la mia macchina non dice più dove va. Come risolviamo il problema? Risponde dall'altavoce il capo redattore. Cioschi ha la faccia da pirla. Alessio, ben contento e soddisfatto, torna nei meandri casalinghi, concludendo la produttiva giornata tentando in vano di inoltrare i mail. Ciao, alla prossima avventura!